Siamo con Edoardo Uomma, autore insieme a Carlo Boccia del libro T'accompagno, Vico Vico. Cosa racconta questo libro? Il libro è un racconto di una storia che noi vogliamo portare avanti attraverso una passeggiata per il centro della città. Ci sono due percorsi che vengono raccontati nel libro, quindi chi vuole fare una sorta di guida turistica per la città, vuole fare una passeggiata, si porta il libro appresso, troverà tanti spunti per guardare alcuni posti che vengono visti all'interno delle viuzzole di Torre del Greco. Tutto il percorso parte da Piazza Santa Croce e quindi fa un percorso che gira attraverso i vicoletti storici della città e quindi pian piano si fa un percorso che dura 70 pagine e che permette al visitatore che vuole per la prima volta guardare la città da un altro punto di vista, raccontare com'è la storia della nostra città. E quindi il libro è dedicato proprio alle persone che hanno voglia di conoscere la città e di far sì che il nostro territorio venga valorizzato su alcuni posti della città che sono un pochettino abbandonati a se stesso. Questo libro è il risultato dei miei anni, circa 50 anni, vissuto nella zona della Marina, di cui ho descritto tutto quello che io ho visto in questi anni. La storia popolare, la storia vera, gli aneddoti, le tradizioni, le curiosità, la gente come vive, i vicoli. Mi sono appassionato, io sono appassionato di storia locale, ma questo mi ha trattato di più. Non ho scritto, non pretendo di aver pubblicato un libro di storia, ma le tradizioni di Torre del Greco, la vera storia di un paese, di un popolo che non dobbiamo dimenticare. e diciamo, sono la parte più importante. Io ho visto che in questi vicoli c'è molta umanità, la gente si tiene ancora alla tradizione, dalla parte alta della città. Qui si vive come ancora in 100 anni fa. Sono soddisfatto delle mie ricerche e spero di farne anche un'altra. Grazie a tutti.